se hai perso l'ultima puntata di uomini e donne ti sei perso un'altra lite tra marcello messina jessica e diego maria de filippi ha svelato che jessica ha scelto di uscire con diego cosa che ha sorpreso marcello jessica ha rivelato che marcello l'ha bloccata su whatsapp senza motivo apparente scatenando così una discussione accesa tra i due gianni sperti ha commentato la situazione criticando il comportamento di marcello e sottolineando quanto sia sbagliato il suo modo di agire marcello si è difeso dalle accuse ma la tensione è rimasta alta nello studio successivamente è intervenuto diego che ha puntato il dito contro marcello ha accusato marcello di essere finto e di voler apparire sempre perfetto sottolineando la sua mancanza di sincerità maria de filippi ha cercato di riportare la calma concentrando l'attenzione sull'appuntamento tra jessica e diego jessica ha espresso dei dubbi sulle reali intenzioni di diego sospettando che il suo interesse per lei sia principalmente fisico diego ha ammesso di essere attratto da lei fisicamente ma ha chiarito che il suo interesse va oltre l'aspetto esteriore insomma la puntata è stata piena di tensioni e di liti con i sentimenti e le emozioni dei protagonisti messi a dura prova non ti resta che guardare la prossima puntata per scoprire come andrà a finire questa complicata situazione resta aggiornato su uomini e donne per non perderti nessun dettaglio